Ciao, sono ancora qui a Kuala Lumpur e oggi ti voglio parlare di qualcosa di veramente particolare che ho scoperto nei scorsi giorni e di cui non ti avevo ancora parlato. Oggi ne ho avuto una prova veramente incredibile. Questo periodo, che non so quanto esattamente durerà, ma è una percezione che ho avuto proprio qualche giorno fa, è un periodo in cui si riescono ad unire finalmente tutti i puntini. L'anno scorso è stato un anno molto sfidante per tantissime persone. Quest'anno è cambiata completamente l'energia. Ora noi abbiamo la possibilità in questo momento di mettere in ordine tutti i puntini, di unirli e di comprendere maggiormente un disegno più grande, che fa parte della nostra vita che comunque non avevamo ancora colto. Quindi in questi giorni fai molta attenzione a quello che accade nella tua vita attorno a te, fai particolarmente attenzione ai segnali, a tutte quelle che sono le informazioni che ricevi direttamente e indirettamente nella tua vita e porta proprio l'attenzione su tutte quelle rivelazioni che cominciano a darti un'idea più definitiva di tutta una serie di questioni, di situazioni che erano rimaste, diciamo, sospese, alle quali non avevi saputo dare una risposta. Fammi sapere come va, metti i tuoi commenti qui sotto e ti auguro una bellissima serata. Ciao, a presto e un abbraccio da questa magnifica città, Kuala Lumpur. Te la faccio vedere! C'è uno skyline veramente magico. Ciao, ciao! Ciao, ciao!